Prima di tutto siamo qui per giudicare una prova di eccellenza, una prova con un molto valore, insieme con due amici, tutti che ho molto rispetto, signor Agosteo e signor Dipinta, abbiamo giudicato tante volte insieme. Io voglio ringraziare tutti i conduttori che arrivano, presidente, vostri cani, Enzi Italiano, anche poi del club italiano, presidente, tutti i consigli, perché mi invito giudica una prova seriosa come prova di eccellenza. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti.